Tre prodotti da usare insieme Tannino di castagno È un estratto di castagno È formulato come corroborante per le piante È ammesso in agricoltura biologica È derivato dall'estrazione acquosa del legno di castagno È un concentrato di sostanze polifenoliche Bene, passiamo alla bentonite Su cosa agisce la bentonite? Allora, le malattie fungine si sviluppano sulle foglie Perché c'è umidità Se noi togliamo l'umidità e l'acqua Abbiamo tolto il substrato di formazione delle muffe E quindi delle malattie fungine Quindi questo è attivo contro un sacco di malattie Tra cui peronospora e l'uidio Arriviamo al caulino Il caulino è una roccia sedimentaria sbriciolata Costituita da argilla di silicato d'alluminio In agricoltura trova ampio impiego sugli olivi Per la lotta alla mosca dell'ulivo Come vedete qui cominciano i primi cenni di peronospora Dall'alto verso il basso Vedete già come cambia colore Ecco, questo adesso appena si asciuga Diventa ancora più chiaro E questo protegge dalle scottature solari Degli insetti dannosi per l'orto